Se l'intervento militare in Siria comincerà davvero dopo domani è molto probabile che le modalità siano già state decise e che le 48 ore che abbiamo davanti servano ai vertici militari degli stati che si imbarcheranno nella missione per mettere ogni pezzetto dell'ingranaggio bellico al suo posto, in attesa che venga dato l'ok dal capofila agli Stati Uniti. Le tecnologiche guerre del XXI secolo hanno un comune denominatore, se possibile non bisogna mettere gli scarponi sul terreno, ossia niente truppe di terra, cosa che Obama vuole evitare come la peste. L'attacco quindi dovrebbe arrivare dal cielo, con missili lanciati da navi, quelle americane, quattro sarebbero già in zona, e da un sottomarino inglese, anche questo già in navigazione verso le coste siriane, e con aerei, meglio ancora se senza pilota, i droni. Obiettivo i centri di comando e controllo di Assad, la contraerea, non è chiaro se i depositi di armi chimiche rientrino tra i potenziali bersagli, per il timore che la popolazione resti colpita da eventuali fuoriuscite di gas letali. Più probabile, anzi quasi certo, che l'eventuale coalizione abbia già infiltrato da mesi i uomini dei corpi speciali, per far saltare i bunker che custodiscono le armi chimiche, con modalità e tecniche da guastatori. L'esercito di Assad, dicono gli analisti, non è un pericolo, affermazione sulla quale il buonsenso consiglia di non scommettere. L'ultima stima è del 2009, più o meno 320.000 militari, ma da allora i ribelli hanno ridotto di molto la sua efficienza, per non parlare delle diserzioni. L'equipaggiamento per lo più russo non è vecchissimo, ma anche questo è stato messo a dura prova dai ribelli. Motivo di preoccupazione, le diverse migliaia di missili terrarie, che potrebbero non tanto contrastare i droni e i missili lanciati dalle navi, quanto essere usati per una rappresaglia con lo scopo di infiammare la regione. Primo obiettivo di una ritorzione Turchia e Giordania, dove ci sono le basi dai quali partirebbero i cacci americani. Gli inglesi decollerebbero invece dalla lontana Cipro e i francesi dagli Emirati Arabi. Secondo obiettivo, Israele. L'ipotesi di un attacco diretto è però più temuto che reale. Più probabile che Assad chieda alle milizie libanesi di Hezbollah di mettere sotto pressione Israele dal confine nord con Libano. E qui partirebbe una resa dei conti tra le milizie sciite e la componente sunnita del paese dei cedri, dove stazionano, è bene ricordarlo, più di mille militari italiani nella forza ONU Unifil. Più incerte le ricadute al confine con l'Iraq, dove il leader al-Maliki, sciita alleato dell'Iran, appoggia Assad. Di certo si creerebbe una pressione ulteriore di profughi siriani verso il Kurdistan iracheno. Insomma, per usare un'immagine antica ma sempre valida, il vaso di Pandora Medio-Orientale verrebbe spalancato.